5 giugno 1883. Nasce l'economista britannico John Maynard Keynes. I suoi contributi alla teoria economica hanno dato origine alla cosiddetta rivoluzione kinesiana. Keynes sostiene la necessità dell'intervento pubblico nell'economia con misure di politica fiscale e monetaria, qualora una insufficiente domanda non riesca a garantire la piena occupazione. Grazie per la visione!